SILENT NIGHT HOLY NIGHT Bene, noi siamo pronti, andiamo. Comportatevi bene quando non ci saremo, ok? Soprattutto tu, nonna. Non trasformare questa casa in un rave per anziani. SILENT NIGHT Ma no, l'ultima volta è stata una cosa improvvisata. Improvvisata? Sì, tipo così. Quella non sono io, è decisamente una foto fake creata con l'intelligenza artificiale per infamarmi. Certo, come no? Anche questo video che è stato postato sul tuo profilo Instagram è stato creato con l'intelligenza artificiale. Internet è uno strumento tanto potente quanto pericoloso. Concordo. Ah, non dirò le mie chiappe. Ma Alfred! Ah, non l'ho solo pensato. Vado a preparare il pranzo, milord, milady, tutti quanti. Buon weekend. Sì, enormemente, poi. Nonna, mi raccomando, cura la nostra piccola Alessia, eh. Vai tra! Come vai tra? Alessia, cura la nonna. Tranquilli, ce la caveremo. Tesoro, guarda papà e mamma. Ah... Andiamo, dai, dai che è tardi, andiamo. Mi raccomando, Ale, eh, facciamo i bravi. Ciao, ciao! Divertitevi! Mi raccomando, mi raccomando suocera, eh. Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao. Ciao ciao! Sì, è tardi Nemo Alexia, vieni all'aereo Ce l'abbiamo fatta, ci ammo a vinnerla Enormemente, poi Che cazzo vuoi? Tu hai mio nipote? Non lo so Alessia Nonna Oh no, è tardissimo Nonna, nonna, nonna Nonna, dove sei? Wow Era Alessia Cara Alessia, sono Alfred Ieri, quando ti sei addormentata, ti ho portata in camera dei tuoi Ho messo i tuoi vestiti, tra parentesi, il rosa mi dona di brutto Che guapa! E mi sono messo nel tuo letto Ho sfruttato la cataratta della nonna per scroccare questo viaggio a Disneyland Ti ho preparato un sacco di dolci e cose buone per farmi perdonare Fai la brava enormemente poi Sono la padrona di casa Allora, come se non è successo la casa di io, c'è? Ah ma io sono scioccata, ma davvero si sono lasciati? E aduncino sul web? Sono il capitano del spargo Mi ha gustata quel figlio di buona donna Bene amici, oggi andremo a scoprire i misteri di casa mia Qualcuno dice che qui è sepolto il tesoro di Pablo Escobar Iscrivetevi al canale e lasciate like Andiamo! Sembra che il tesoro sia nascosto qui Oddio che cringio Wow Ragazzi, sono ricca! Sono Lettia, quindi busto Piaccio sul mio polso Eh la madonna, che ricchezza! Ma sarebbe un colpo così, saremmo posto per tutta la vita Sì ma busto al sizzo è grande, come rintracciamo la casa? Grazie per la stamp, sì È la vostra quina a casa da sola Ma se la cava benissimo È persino a casa da sola, sarebbe un colpo semplicissimo Io so dove abito bro, è una mia compagnia di classe Caro e dolce bambino, non è che ci daresti l'indirizzo? Anche no bro, non vi conosco Il mondo di oggi è pieno di pervertiti E poi voi due avete la facciata dei provati Bambino, ma noi siamo i suoi zii e ci piacerebbe tanto andare a trovarlo Non siete credibili bro? Oh, senti, ti do 100 euro No, sono gli ultimi soldi che abbiamo Ma è un investimento, con l'indirizzo ci frutterà milioni Minchia, c'ha ragione, ne voglio 500 bro Piccolo bastardo, ma non hai dei genitori? Sì, mio padre è appena andato a prendere le sigarette, sta arrivando bro Oh, mi date i soldi, poi inizia a urlare Sì, ma almeno dacci l'indirizzo Papà, aiuto! Oh signor! Oh, cosa succede qua? No, niente Non ricordavamo solo l'indirizzo di nostra nipote Si chiama Alessia e da quello che ho capito è in classe con suo figlio Alessia Scaccabarozzi, abita la abita Grazie mille, gentilissimo Arrivederci Grande Cos'è che volevano sti due? Ecco papà, loro... Buon Natale Niente, po' Sembra tutto troppo facile È troppo facile Entriamo, prendiamo i soldi e scappiamo a Dubai Amico mio, da domani non dovremo più lavorare Ma noi non abbiamo mai lavorato Sei pronto? Sì, sì Al mio tre sfondiamo la porta Uno, due, tre! Siamo già a Dubai Beh, come inizio non c'è male Ah, vedo le influenze Dimmi Guarda C'è una finestra aperta Vado io Anni fa facevo parkour Sì, aspetta ma quante lezioni fa... Parkour! Ecco appunto Parkour! Sì, sì Parkour Io preferisco fare Alla vecchia maniera Che freddo Alexa Chiudi tutte le finestre Ok Ok T'ho a posto, raga T'ho a posto Forse è meglio se entriamo dal retro Un cordo Pupi Sarà uno di quei chihuahua da borsetta Che hanno tutte le influencer Una bella pedata e vi... Oh, buono Da buono Da buono Da buono Da buono Bufi 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 Oh no, ma lui non ti basta Ehi, brutta bestia Lo vuoi? Eh, lo vuoi? E... Via, via, fuori dalle balle Tutto ok? Quello non è un cane Quello è mia suocera Forse è meglio se riproviamo dall'ingresso Cos'è stato? Alexa Controlla sicurezza Ok Non crederete di farla franca Ah 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 ah! Sì! Siamo partiti con il piede sbagliato Non dimentichiamo che facciamo parte dell'associazione dei villain Sì, e abbiamo pure la testa della fedeltà E allora scassiniamola Questa porta del caldo Alexa, attiva la modalità Pikachu Sai che i capelli ti stanno meglio così? I tuoi invece fanno sempre cagare Scusate, per caso avete visto due pericolosi ladri? Tu hai visto due pericolosi ladri? Siamo noi, idiota Eh sì, siamo noi Siete sicuri? Perché a parte la faccia da culo Sembrate due compresi idioti Ma come ti permetti? Adesso ti facciamo vedere noi Upsì Ma cosa pensa di fregarci? Wow Upsì 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 Signori Ricorderete questo giorno come quello in cui avete quasi catturato il Capitano Alex Valle? Dammi subito la combinazione della cassaforte Oppure ti faremo molto, molto male Chi? Tu e lui? YMCA! YMCA! Sono pronto per amici di Maria De Filippi! Eh, vabbè, basta scherzare Conterò fino a tre Dopodiché Eliminerò il tuo profilo TikTok Uno Due Tre Chi è? Non saranno mica i ladri Siamo noi i ladri Ah, magari Just It Cioè tu hai ordinato da mangiare nella casa che stiamo derubando? Sì, ma altre pizze, niente di serio Per me hai preso la pizza prosciutto e funghi senza funghi? Sì, l'ho chiesto E poi non capisco che senso ha ordinare una pizza prosciutto e funghi senza funghi Eh, la madonna che figone del 30! Ma dov'è? Cos'è stato? No, no, aspetta 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 Andiamo! Tutto ok? Oh, guarda chi c'è Quello che mi ha costata Mi dispiace Ma ora sono qui Vedi che è una pizza prosciutto e funghi Senza funghi È un ottimo segnale Ma com'è fatto a convincerli a chiamare la pizzeria di mio padre? Quelli sono due idioti Ah, dimenticavo Buon Natale Buon Natale, Lulido Gossatore Oh, ma cos'è tutto sto bordello qui? Ti chiamo? Ehi, ma che succede qui? Oddio, ma che disastro! Nonna Alfred Ma chi sono quei due? Loro sono... Beh, loro sono... Sono... Loro sono... I nuovi maggiordomi Signori, ecco voi Cosa credete per pranzo? Pulente, o sei! Benissimo, andiamo subito Buon Natale Signori Me ne torno... Me ne vado un mese a Disneyland Buon divertimento e... Grazie per i dolci Quali dolci? Me ne vado, me ne vado, me ne vado a Disneyland Disneyland! Come hai fatto a convincere questi due a lavorare gratis per noi? È un segreto E ora... Un bel pranzisi Prego Anna Grazie E... Salute! Salute! SABB A SABB Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.